e poi non vado a piaccomo più su qua manca soltanto e che voglio fare se lo può stampare sì sono più tranquillo così eventualmente posso ricevere magari la visita dei miei nipoti che fino ad oggi ho evitato noi in questo momento stiamo facendo le Pfizer perché è previsto per gli over 80 facciamo compilare tutta una documentazione con il consenso alla vaccinazione e con l'anamnesi del paziente e poi dopo la somministrazione aspettiamo 15 minuti per valutare l'eventuale comparsa di piccole reazioni allergiche quindi monitoriamo il paziente fortunatamente non abbiamo mai avuto nessun effetto collaterale e dopo i 15 minuti ci salutiamo con un bel sorriso forse possiamo perfermare la figlia per la voce lo immaginavo benissimo come ieri come l'altro ieri sta benissimo sì perché almeno speriamo che tutto finisca perché questo è peggio questo virus è peggio della seconda guerra mondiale io la seconda guerra mondiale l'ho sofferta ho avuto casa bombardata lei lavorava all'Ips? io sono stata grazie a tutti 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 grazie a tutti